Dunward è una incredibile serie animata in 56 episodi, creata dalle Iji Matsumoto e prodotta dalla Toei Animation nel 1977. Ne fu realizzato anche un manga distribuito in due volumi. La storia mi ha particolarmente colpita per la sua attualità e per i numerosissimi spunti di riflessione e per questo, anche se i mecha anime non sono propriamente il mio genere, ho deciso di raccontarvela e credo che da ora in avanti recensirò alcuni anime robotici, quelli con le storie più interessanti, sperando che i video siano di vostro gradimento. Partiamo! Alcuni scienziati hanno scoperto Prometeo, il decimo pianeta del sistema solare, che ha caratteristiche simili alla Terra. Sulla Terra, infatti, a causa dello sfruttamento delle risorse da parte dell'uomo, pensate a quanto è di attualità questo tema, presto la vita diventerà difficilissima e si sta mettendo a punto una sorta di nave spaziale in grado di raggiungere Prometeo. Ci troviamo quindi in una base di ricerca, la base Yazdam, dove tutto è pronto per il primo lancio di esplorazione verso Prometeo. A dirigere l'esperimento è il dottor Galax. Con lui c'è un bambino, il piccolo Arin, il cui padre, Cosmos, è uno dei piloti delle quattro navicelle in cui la nave spaziale si divide nel corso del lancio. In quel momento arriva anche un altro scienziato, il perfido Doppler, che annuncia che l'esperimento sarà un totale fallimento. In realtà scopriremo che è stato proprio Doppler a boicottare tutto, perché vuole essere lui l'unico e il solo in grado di compiere la missione per poter colonizzare Prometeo con una piccola schiera di eletti. Peraltro il suo personaggio, i suoi seguaci, le metodologie e le divise indossate ricordano molto quelle della dittatura nazista. La nave spaziale viene così lanciata, le navicelle si dividono e a un certo punto dalla navicella di Cosmos sembrano partire alcuni colpi che distruggono le altre tre navicelle. Cosmos, che scompare insieme agli altri piloti, viene additato come il traditore, colui che ha mandato in fumo la missione. Alla scena assiste un atterrito Arin, che crescerà dunque con la convinzione che suo padre sia un traditore e promette a se stesso che diventerà un bravo pilota per lavare l'onta alla macchia lasciata da suo padre. A distanza di dieci anni, cresciuto sotto la guida del dottor Galax, Arin è diventato pilota di astronave e si contende con altri due ragazzi il ruolo di pilota del satellizzatore Dunward, un'astronave che può trasformarsi in un mega robot che sarà in grado di raggiungere Prometeo ma anche di contrastare i nemici avendo tutta un'incredibile dotazione di armi. A mettere i bastoni tra le ruote al progetto del dottor Galax è ancora una volta Doppler, che comincia ad attaccare la base Yazdam con alcuni robot mostri meccanici, chiamati i Mecha-Satan. Quando la base viene attaccata per la prima volta, Arin decolla con la sua astronave, ma non riesce a sconfiggere il Mecha-Satan. Arriva in suo aiuto un'altra astronave pilotata da un certo Mr. X che indossa una maschera di ferro e che uccide il robot inviato da Doppler. Ma questo Mr. X è un amico o un nemico? Si chiede Arin. Mr. X non ricorda chi è ma si suppone che sia un fuggitivo proveniente dalla base satellitare di Doppler. La sua maschera di ferro è connessa al suo cervello, ma la rottura dell'antenna della maschera stessa avrebbe interrotto il lavaggio del cervello che Doppler gli aveva fatto. Si ritiene che Mr. X sia uno dei piloti della prima missione, creduto ucciso da Cosmos. Mr. X, soprannominato da quel momento Capitano Dunn, diventa così l'addestratore per Arin e gli altri due ragazzi candidati alla guida del Dunward. L'addestramento sarà durissimo, il Dunward deve volare a 15 volte la velocità del suono e immaginatevi i test e i sacrifici che Arin dovrà affrontare. Arin è il prescelto per la guida del satellitatore, anche perché durante l'addestramento sono avvenuti due eventi drammatici. Gli altri due candidati sono infatti fuori gioco. Tommy ha riportato grave lesioni finendo su una sedia a rotelle e Caboan è morto sacrificandosi durante uno scontro con un Mecha-Satan. In questa storia complessa, fatta di complotti, di intrighi e di piani e strategie paramilitari, compaiono anche altri personaggi. Il Capitano Gudon, che guida di persona molti Mecha-Satan, sottoposto al vice cancelliere Sigma nella gerarchia di comando. Dalla parte dei buoni troviamo poi tutti i personaggi che vanno a comporre l'equipaggio della base Yasdam e che nel corso della storia si immoleranno per la causa, ma anche personaggi inizialmente dalla parte di Doppler e che poi passeranno dalla parte giusta sacrificando se stessi. Insomma, un'anime che non risparmia morte, sofferenza e dramma. In questa fase della storia ambientata sulla Terra, il robot, il Dangward, diventa un fatto secondario e la storia è concentrata sulla questione personale di Arin e sul suo rapporto conflittuale con il Capitano Dan, che si scoprirà in seguito essere proprio suo padre Cosmos. Tra addestramenti durissimi e continui attacchi dei Mecha-Satan, arriviamo alla messa a punto del Dangward, che si mostra per la prima volta come robot al termine dell'assemblaggio solo all'episodio 11. Cosmos a un certo punto ricorda chi è e cosa è accaduto dieci anni prima. Mentre era in volo, un misterioso fascio di luce aveva accecato lui e gli altri piloti, che poi erano stati fatti prigionieri da Doppler ed erano diventati i suoi schiavi attraverso una sorta di lavaggio del cervello. Il padre di Arin però si tiene il segreto per sé, confidandolo solo al Dottor Galax. Da quel momento gli allenamenti diverranno sempre più duri e intensi. Cosmos di fatto sembra non riuscire a provare o a manifestare affetto paterno nei confronti di Arin. E questo è in linea con lo spirito che anima questo tipo di storie, soprattutto a quei tempi dove spesso padri padroni vessavano i figli con allenamenti e addestramenti ai limiti dell'umano. Pensiamo, per citare uno spocon famosissimo, a Tommy Stella dei Jans. Inoltre Cosmos comincia a manifestare dei malesseri sempre più frequenti, dovuti al condizionamento indotto da Doppler e decide di assumere altri due piloti per il Dangward, Joe e Ideto, due giovani dotati di particolare talento. Joe finirà prigioniero di Doppler e quando tenterà di scappare a bordo di un caccia sarà abbattuto. Inoltre durante una delle tante battaglie contro i Mecha Satan, il malvagio capitano Gudon viene ucciso e al suo posto subentrerà Fritz Arken, che è a capo della divisione Falchi di Arken. Un giovane uomo spietato e crudele che ha un solo obiettivo, la selezione della razza umana. Intanto il Planester, la nave spaziale progettata da Doppler, parte per Prometeo, mentre la nave spaziale Yazdam non è ancora pronta. Durante uno dei soliti attacchi di Doppler, che si intensificano per impedire che la nave spaziale Yazdam decolli, il capitano Dunn resta gravemente ferito, tra l'altro in una battaglia contro alcuni uomini mascherati, quindi uomini che hanno subito la sua stessa sorte, manipolati da Doppler. Nell'esplosione la maschera vola via e suo figlio Arryn scopre la verità. Altro rospo da mandare giù per il ragazzo che non comprende perché suo padre e il dottor Galax gli hanno nascosto la verità. Finalmente anche la nave spaziale Yazdam decolla e proprio in quel momento Cosmos muore tra la commozione generale. La serie si sposta così nello spazio diventando una sorta di corsa a chi primo arriva su Prometeo. Vi saranno varie tappe su pianeti e asteroidi, scontri e battaglie anche molto cruente, vista la malvagità di Fritz Arken. A questo punto apro la parentesi su Nova, unica ragazza che lavora alla base Yazdam e con la quale nascerà una sorta di tenera amicizia con Arryn. La presenza femminile è una costante nei mecha anime e io l'ho sempre trovata un valore aggiunto. Se infatti per una squadra di combattenti tutta al femminile dovremo attendere gli anni 90 e Sailor Moon, è interessante notare come negli anime robotici queste presenze si erano già affermate con donne che pilotavano astronavi, venivano addestrate al pari degli uomini o comunque rappresentavano un supporto spesso irrinunciabile per il protagonista maschile. Per quanto riguarda il personaggio di Nova, in questo anime ne potremo apprezzare proprio il percorso di crescita. Inizialmente relegata a Terra come ufficiale supervisore, arriverà a pilotare la Space Lady prima e la Sky Arrow dopo, partecipando attivamente alle missioni spaziali. All'inizio è anche una sorta di tramite tra Arryn e suo padre Cosmos che hanno evidenti problemi di comunicazione. Poi la vedremo affrontare un nemmeno troppo velato dilemma amoroso. Deve scegliere tra Arryn e Ideto. Durante una missione nello spazio per distruggere un asteroide, Nova viene catapultata nella galassia e di lei non si sa più nulla. La ragazza viene così intercettata e rapita da Fritz Arken. Sotto ipnosi la ragazza rivelerà i segreti della nave spaziale Yazdam, che si muove grazie a una speciale fonte energetica. Al momento di farla fuori però Arken non se la sente perché Nova gli ricorda sua madre, l'unica donna che lo aveva davvero amato. E quindi Arken lascia libera la ragazza che viene così recuperata dalla base Yazdam. Capite che la storia è abbastanza complessa anche per i temi profondi trattati e per questo risulta una storia adulta ma anche molto avvincente. Quando per la prima volta l'equipaggio della base Yazdam intravede Prometeo, Arin e Nova si dicono disposti a condividere insieme tutto, anche la morte, per questa importante causa. Lasciandoci dunque intendere che Nova ha in qualche modo fatto anche la sua scelta d'amore, ha scelto cioè la persona con la quale condividere la sua vita. Tra battaglie, morti, missioni nello spazio dove il Dunward riveste un ruolo sempre più importante, arriviamo allo scontro finale tra Doppler e l'equipaggio della base Yazdam. Doppler morirà proprio per mano di Arken con il quale da tempo era entrato in conflitto, visti i metodi dittatoriali. Mentre Arken, udite udite, semplicemente scomparirà nello spazio e di lui non si saprà più nulla. Come se l'autore avesse in qualche modo voluto lasciare in sospeso la sua storia, lasciarla immaginare al pubblico, visto che si tratta di un cattivo che però ha mostrato un tentativo di redenzione. Voi che dite? La storia si conclude con l'equipaggio della base Yazdam che vede da lontano il pianeta Prometeo ed è pronto ad atterrare, con Arin che ricorda suo padre e tutti i suoi insegnamenti. Io ho trovato questa storia semplicemente affascinante, qualcosa che per la sua incredibile attualità potresti riprendere oggi pari pari per farne un remake, una serie tv, un film e chi più ne ha più ne metta. Se nel corso della mia narrazione ci sono state imprecisioni, perdonatemi perché solitamente non recensisco questo genere di storie. Aspetto come sempre i vostri commenti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!